Ben trovati con lo spazio a cura di meteocalabria.net. Aria meno calda dei quadranti nord-occidentali interesserà la Calabria per i prossimi giorni facendo rientrare le temperature in media o anche sotto media nel corso del weekend. Giovedì 15. Poco nuvoloso su Tirrenica e Bassa Calabria, sereno altrove, venti moderati da ovest-nord-ovest con rinforzi nell'interno e sulle ioniche, mari tutti mossi, temperature in ulteriore calo con caldo nella norma alle ore diurne e fresca alle ore serali notturne. Condizioni pressoché infariate per venerdì 16 luglio salvo addensamenti più compatti sui litorali tirrenici dove non ci sentiamo di escludere isolati piovaschi, temperature stazionarie. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento.